Non è stato semplice raggiungere l'azienda Pietrelli, era impossibile infatti riuscire a schivare tutte le buche e i grossi crateri che si sono formati in via Meda, svoltando in via Turati. Poi la situazione era la stessa, con l'aggiunta di lunghe pozzanghere al lato della careggiata, una situazione pericolosa che ha già provocato danni a mezze persone. Eugenio, da quanto tempo non viene sistemata questa strada? Da molto tempo, io sono vent'anni che sono qui, è stata sempre una strada d'adrucciolevole, adesso è appeggiorato, è ora di asfaltarla perché non si può più. Se lamentano gli operai che bucono le gomme, rovinano le macchine, pretendiamo che vada rifatta la strada. Anche la sua auto ha subito qualche danno? Sì, ho subito i miei danni, però li ho riparati per conto mio, però gli operai è un po' più duro ripararli. Perché succede spesso Silvia? Sì, spesso, anche un motorino un anno fa circa d'estate è andato contro una buca, quindi anche un incidente che è cascato, insomma, fortunatamente non si è fatto niente, però insomma queste buca sono pericolose. Succede spesso, anche la mia auto un paio di volte la gomma l'ha presa, lo stesso fornitori e i rappresentanti che vengono a trovarci dicono che non esiste una strada così in tutta Italia, cioè proprio a Fanno dobbiamo avercela, mi sembra, insomma, dai cerchiamo di dare un'altra visione di Fanno anche all'Italia stessa. E dicevamo appunto che se ne parla da tanti anni, ci fu, mi dica lei quando, una riunione addirittura con l'ex sindaco Guzzi? Sì, io mi ricordo all'inizio che ho iniziato qui, più o meno nel 2004, quindi era l'inizio, insomma, dei primi anni che ero qui in azienda e c'era una riunione con il sindaco Guzzi, qui vicino all'ex chilometro 25, prima si chiamava in altro modo, mi ricordo con altri anche imprenditori dove dicevano che sistemavano la situazione di Bellocchi da queste strade. Sicuramente qualcosa hanno fatto, ma nella zona, penso, insomma, abitativa e qua non hanno mai messo piede, quindi non è questione di questa giunta o di altra, eccetera, eccetera. Sono anni e anni che non è mai stato fatto niente, sia via Meda che via Turati, dove noi passiamo abitualmente. E veramente, cioè, l'avete vista anche voi, quindi basta solo provarla. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.